Nessuno si aspettava questo pomeriggio. Vi farà cadere le braccia per quello che è stato annunciato. Ma prima di parlarvene, voglio che vi piaccia, così da avere tutte le ultime notizie sul Milan. Il Milan ha intenzione di investire in un nuovo attaccante durante la finestra estiva, ma ha anche percepito una potenziale opportunità in Raffa Silva del Benfica, secondo quanto riportato. Secondo quanto riportato dal messaggero, via Pianeta Milano, il Milan potrebbe optare per Raffa Silva in estate, ma dovrà affrontare una potenziale battaglia per il trasferimento con la Lazio, essendo l'obiettivo preferito del tecnico Maurizio Sarri. Arrivato al Benfica dallo Sporting Braga nel 2016 per 16 milioni di euro, Silva è osservato dai rossoneri da circa un anno e mezzo, quindi l'idea non è affatto nuova. Il trentenne gioca principalmente come secondo attaccante, ma può agire su tutta la linea, ed è una grande opportunità perché il suo contratto scade a fine stagione e non è imminente il rinnovo. Silva ha segnato 11 gol e fornito 11 assist in 30 presenze in tutte le competizioni in questa stagione, il che significa che ha un profilo molto interessante per un potenziale trasferimento gratuito. Tuttavia, resta da vedere se il Milan vorrà affidargli il futuro dell'attacco, visti fattori ovvi come l'età e il ruolo. Bene, ora tocca a voi dirmi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale per continuare a ricevere i prossimi aggiornamenti sul Milan.